Buonasera, sono Brigitte Hofer, collaboratrice del Bolzano Film Festival. Oggi ho il grande piacere di presentare al pubblico del Film Festival la regista del pluripremiato film Maternal, Maura Del Piero. Film in concorso per la sezione narrativa. Ciao Maura, grazie mille di aver accettato l'intervista. Tu ti stai collegando dall'Argentina, se non sbaglio, vero? Siamo lontane. Grazie. Allora, il tuo film Maternal ci racconta di un istituto italo-argentino che accoglie madri minorenne in difficoltà. Il film è ambientato in Argentina. Ci vuoi brevemente raccontare come è nata l'idea di girare questo film? Eh sì, guarda all'inizio inizio non è stato non c'è stata l'idea di girare un film in un hogar. Il film nasce in realtà da un desiderio più intimo e profondo mio di esplorare le contraddizioni e la complessità della maternità che era un sentimento che occupava il cuore e la testa mio e delle mie amiche e delle persone che stavano intorno a me e che in qualche modo non trovava uno specchio nella società. Quello che voglio dire è che in qualche modo tutte in qualche modo sentivamo molte contraddizioni nel desiderio di essere madri e però poi non trovavamo una narrazione di questo nella società. Trovavamo solo pubblicità con bambini biondi bellissimi che sorridono alle loro mamme e in qualche modo la sensazione era che ci fosse una sorta di, non direi tabù però comunque di difficoltà a parlare dell'aspetto più complesso della maternità. Quindi c'è stato da subito l'idea che quello era il focus e poi io naturalmente sono stata attratta dalle maternità che in sé erano complesse. C'è stato poi un aneddoto perché poi le cose succedono quando uno in maniera anche un po' magica e io sono anche un'insegnante in una delle mie classi è rimasta incinta a una ragazzina e questo per me è stato molto commovente perché ho potuto vedere a lungo un anno scolastico questa ragazza che continuava a crescere come come adolescente allo stesso tempo il suo corpo e il suo spirito stavano crescendo come come madre no ed era una contraddizione per me davvero commovente. Quindi ho iniziato proprio a fare ricerca sulla maternità adolescente. Io lavoro molto con la ricerca mi interessa molto ma indipendentemente se un documentario è una finzione credo molto nella ricerca. Credo che sia importante a un punto di vista di vero simiglianza ma anche molto creativa. Infatti è stata così creativa che il mio passo è stato quello di andare a lavorare negli hogar. Gli hogar sono questi consicenti per madri adolescenti. Davo corsi di cinema per le giovani madri e in uno di questi hogar perché ho lavorato sia in quelli laici che in quelli religiosi e in uno di quelli religiosi c'è stata un'immagine ispiratrice che è stata una giovane suora che ha raccolto un bebè da una culla e io sono certa di aver visto nei suoi occhi un amore che andava al di là dell'amore cristiano. A quel punto mi sono resa conto che pensavo che avrei fatto un film sul paradosso della maternità adolescente ma c'era un altro paradosso altrettanto interessante che era quello del fatto che queste donne che non possono avere figli siano così prossime alla maternità proprio anche fisicamente e mi sono resa conto che un hogar è un luogo, un cortocircuito emotivo incredibile. E quindi è nato il film, è nato il film da questa ricerca lunga e lì è nata una storia di finzione che ho scritto e che è completamente di finzione. Ma il, diciamo, tu hai voluto parlare della maternità in un ambiente religioso, no? come dire, hai questo contrasto, l'hai, vabbè adesso l'hai detto perché insomma fa parte del tuo vissuto ma c'è anche un altro aspetto quello, diciamo, un po' anche un po' più intimo tuo nel senso che, non so, tu sei il credente? E' interessante perché sto scrivendo, cioè la religione torna moltissimo. Ho passato molto tempo da piccola con una zia molto religiosa che non, diciamo, avrebbe voluto essere suora ma poi non è diventata suora semplicemente perché si doveva occupare dei fratellini più piccoli, quindi è stata un po' mamma dei suoi fratelli. Ma se avesse potuto avrebbe scelto la vocazione e credo che questo mi abbia influenzato molto, cioè non tanto per me come credente o non credente ma proprio come mondo, no? Allora quando uno scrive poi i propri mondi, la propria infanzia torna moltissimo per cui in realtà quando io ho iniziato a fare le ricerche o poi più con le suore ho sentito ritornarti a una serie di cose che conoscevo sensorialmente, anche proprio gli odori, no? L'incenso, il mantra del rosario, cioè questa parte di me che ho vissuto nell'infanzia e devo dire che mi attrae molto il mistero della vocazione. Non l'ho voluto indagare nel senso che innanzitutto se facesse un film su quello prenderei altri sei anni di ricerca perché è molto rispetto ma non era quello il punto, no? Cioè nel senso a me interessava parlare delle donne dietro il velo, no? Cioè del loro desiderio di madre. Però poi mi, sì, lo trovo molto, mi attrae ciò che non posso comprendere. Trovo che la vocazione per noi laici sia un mistero davvero insondabile. No, ho trovato molto interessante, da parte il film è veramente a uno spessore molto, molto, molto forte. In verità io, suor Paola, l'ho anche visto, cioè c'è questa parte della maternità, come tu lo dici, si scrive, si legge nella recensione del tuo film, però io ci ho letto anche, o almeno ho visto suor Paola anche, non so, è come aiutare l'altra ragazza lì dove lei non arriva. Non ho, non ho letto immediatamente il fatto che suor Paola avesse una mancanza di maternità diretta, ma più un aiutare, un sentirsi forse magari anche migliore come madre. Però andiamo come possibile, cioè di prendersi cura, ecco, di saper prendersi cura di chi magari in quel momento non riesce. Va bene, eh tu nasci come documentarista, questo è il tuo primo film narrativo, giusto? Sì, primo film di funzione. Sì, perché è un documentario molto narrativo. Sì, e cosa pensi? Continuerai sulla finzione o tornerai sul documentario o come hai fatto qui, che insomma è una buona combinazione? Sì, in questo momento sto scrivendo un'altra finzione, profondamente legata alla realtà. In realtà a me affascina molto proprio questo confine. quando facevo documentario mi dicevano che sembravano una finzione, adesso quando faccio finzione mi dicono che sembrava dei documentari. Trovo che siano proprio, appunto, è un confine interessantissimo. Nascono, sono tutti lavori che nascono da un'emozione che io trovo nella realtà. per cui spesso i registi chiedono chi ti ispira come regista, è sempre la realtà che mi ispira. Mi piace molto lavorare con gli attori, che siano professionisti o no. Maternale è un cast misto, sia di professionisti che non. ma in generale mi piace quella relazione. Mi piace creare dialogo. nel lì. Molto. 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 Bene. Non abbiamo tantissimo tempo, purtroppo. Mi piacerebbe farti ancora tante domande. Ci hai anche già detto che stai lavorando a un progetto nuovo. Noi siamo molto contenti. Tu sei di Bolzano? Sì, e tra l'altro il nuovo progetto è già sostenuto da IDM. Ah, bene. Perciò sarà un aspetto di viaggio a Odige nel film, giusto? Sì, 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 perché ti dico che per la prima volta, cioè sarà il film, sarà completamente girato mentre il piatto a Odige. Ah, bene. Torna a casa allora. Tornerai a Bolzano allora presto? Verrai? Sono già stata a fare ricerche, tornerò presto. Ma guarda, in realtà ero venuta con l'idea anche di stare al festival due volte, ma come... Niente da fare, non è ancora niente. Arriverà, magari il prossimo. Bene, Maura, allora io ti devo chiudere, abbiamo dieci minuti e ti faccio tanti auguri, grazie ancora del tempo e buona fortuna, buon lavoro e speriamo di rivederti presto qui a Bolzano e di poterti salutare al prossimo festival. Eh, buon lavoro. Sì, speriamo davvero. Grazie, grazie del festival. Grazie a te, grazie, grazie mille. Ciao, Maura, ciao.